Fiori, ceri e foto con il volto di Alexei Navalny. Le reazioni che hanno accompagnato la notizia della misteriosa morte venerdì scorso del principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin arrivano anche a Como. Nella zona dei giardini a Lago e di in particolare accanto al monumento alla resistenza sono stati lasciati fiori, candele ma soprattutto foto dell'attivista russo morto come detto venerdì scorso all'interno del carcere di massima sicurezza che si trova a quasi 2000 km da Mosca, secondo quanto dichiarato dalle autorità russe. Nelle scorse ore ha parlato la moglie del dissidente, Yuliana Navalnaia sostenendo che suo marito sia stato abbelenato. Putin ha ucciso mio marito, continuerò il lavoro di Alexei e continuerò a lottare per il nostro paese, ha affermato la donna. In tutta Italia sono numerose le iniziativa a sostegno di Navalny tra cui presidie fiaccolate le più importanti a Roma e Milano. Come detto anche a Como c'è chi ha voluto lasciare un biglietto, un fiore, una candela per ricordare ed esprimere sostegno alla causa di Navalny. Non ho paura e voi non dovete avere paura, si legge sul cartello in una delle foto.